Hai mai notato quel movimento buffo che il tuo gatto fa con il sedere prima di saltare? È un po' come una piccola danza! Ma perché lo fa? Scopriamolo insieme! Questo comportamento non è solo divertente, ma ha radici profonde nella biologia e nei comportamenti predatori dei gatti. Oggi ti sveleremo il perché. Il movimento del sedere prima di un salto aiuta i gatti a calibrare la loro forza e il loro equilibrio. Questo piccolo rituale è fondamentale per assicurarsi che il salto sia preciso e ben eseguito. I gatti sono maestri nell'arte del movimento e ogni dettaglio conta. È come un modo per concentrarsi prima di compiere un balzo preciso. Stanno caricando il salto. Ma c'è di più! Questo movimento non è solo per il salto, ma anche per mantenere la loro agilità e prontezza. Questo comportamento deriva dai loro antenati selvatici, che lo usavano per perfezionare la loro tecnica di caccia. Nei gatti domestici, questo istinto è ancora molto presente e li aiuta a rimanere in forma e pronti per qualsiasi situazione. Nella natura selvaggia, ogni salto conta. I gatti selvatici muovevano il sedere per stabilizzare il corpo, distribuire il peso e assicurarsi che ogni muscolo fosse pronto. Questo movimento preciso e calcolato è essenziale per la loro sopravvivenza. È un istinto naturale che il tuo gatto domestico ha mantenuto. Anche se non deve cacciare per il cibo, il tuo micio conserva queste abilità affinate dai suoi antenati selvatici. Inoltre, questo comportamento può essere legato all'eccitazione e alla concentrazione. Quando il tuo gatto si prepara a saltare, potrebbe semplicemente essere super concentrato sul suo obiettivo. Anche se è solo un giocattolo. Non tutti i salti sono perfetti, ma di sicuro il tuo gatto ci prova ogni volta. Quindi, la prossima volta che vedi il tuo gatto agitare il sedere, sappi che sta pianificando qualcosa di speciale. Sta per fare il suo salto perfetto, un momento di pura grazia e agilità felina. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti per altre curiosità sul mondo dei gatti. Non perderti i nostri prossimi video pieni di sorprese e scoperte.